Incentivi Case Green per i giovani sono cumulabili o no? Giovani sotto i 36 anni possono beneficiare di incentivi statali per acquistare case di classe energetica A o B. Tra questi incentivi vi è una detrazione IRPEF del 50% dell'IVA pagata, spalmata su un periodo di 10 anni. Inoltre i giovani con un reddito inferiore a 40.000 euro annui possono non pagare imposta di registro, ipotecaria e catastale. Attenzione però, queste agevolazioni non sono cumulabili fra loro, quindi occorre scegliere quella più vantaggiosa.